Come avete visto nell'unboxing intitolato Lo Aspettavo, è arrivato questo prodotto della E-Light che ho acquistato su Banggood. Io sono stato sfortunato perché quando l'ho acquistato c'era solo il magazzino cinese, ho visto adesso c'è anche spedito dal magazzino europeo, però non c'è più spedito dal magazzino europeo la plafoniera. Infatti cosa fa questo? Tac, mi accende e spegne la plafoniera. Adesso c'è il faretto che mi illumina, quindi non vedete tanta differenza. Questo prodotto è intitolato YLKG08, un nome più facile, no? È un dreamer e cosa vi permette di fare questo dreamer? Vi permette di controllare le plafoniere smart di Xiaomi. Io vi ho portato una recensione, è una plafoniera compatibile tra l'altro con la carissima assistente vocale, non necessita hub, ha anche dei led RGB di sfondo e secondo me è una delle migliori plafoniere disponibili attualmente sul mercato. Costa meno di 90 euro, anzi, costa meno di 100 euro, così più o meno siamo in linea con i costi in generale. Addirittura pensavo di acquistare una seconda, solo che appunto adesso visto che è spedito solo dalla Cina, quindi se lo ordino adesso sicuramente dovrei aspettare un po' di più, quindi ci penso. Questo è un controller Bluetooth, ok? Questo qui si gira in questo modo e forse come potete vedere dall'illuminazione che cambia, io posso regolare la luminosità e dici, vabbè Poderac c'è necessità di fare un video su un prodotto del genere? Sì, perché prima di tutto non costa tanto, costa una decina di euro, 10-15 euro con la spedizione inclusa e questo prodotto mi è piaciuto perché non necessita installazione, in che senso? Come potete vedere dietro non c'è nessun tipo di supporto perché questo qui lo posso attaccare semplicemente a un mobile, lo posso anche non attaccare come ho fatto io, lo posso portare in giro. Questo fa sì che una volta che avete montato la vostra plafoniera non dovete fare buchi al muro o chiamare un elettricista per avere questo sistema. Poderac ma lo controlli tramite applicazione? Controlli tramite assistente vocale che ti serve questo? Ho constatato che effettivamente la fisicità di qualcosa ci vuole ogni tanto perché è capitato qualche volta di aver impostato, che ne so, la plafoniera in modalità notte, aspettate che aumento un po' la luminosità, ho impostato la plafoniera in modalità notte e successivamente il giorno dopo non avevo voglia di chiamare l'assistente vocale perché è tempo che chiami l'assistente vocale o è tempo che trovi il telefono magari in ricarica, l'hai spento da poco, non hai voglia di andare a modificare le impostazioni, ecco nasce così l'esigenza di avere qualcosa che subito, zack, come il telecomando, prima o poi ti serve. Devo ammettere che uso molto spesso l'assistente vocale perché mi permette anche di attivare i timer, questo qui è un supporto in più, io sono qua al computer oppure appunto sto registrando un video senza che interpello l'assistente vocale, gli dico di spegnere la luce e me lo fa con un semplice tocco. Bene, con questa recensione voglio anche farvi un tutorial, come funziona questo dispositivo, semplicemente vi arriva così, necessitate una batteria, infatti l'uno non arriva con una batteria, la dovete mettere voi, come si fa a mettere la batteria? Qui ci sono dei piru piru, mettete un coltello, mettete qualcosa di piatto, si apre questo coperchio e potete mettere delle batterie, le batterie sono le 20.32, pensate questa scatola l'avevo acquistata su Amazon in offerta e ce n'erano non so quante, una decina forse, ho detto ma quando mai usirò queste batterie? Me ne serviva solo una? Alla fine invece quasi che le ho finite, guardate sono queste qui, le trovate dal tabaccaio oppure appunto su Amazon, dappertutto le trovate. Costano molto poco, le inserite dentro e per quanto tempo dura? Sul sito della E-Lite c'è scritto che se la utilizzate, questo qui lo utilizzate con 50 click più o meno giornalieri, vi dovrebbe durare la batteria due anni, quindi una volta messa una volta la batteria, questo dispositivo praticamente non ha necessità di essere alimentato con batteria ogni mese. Come si fa ad associare? Dovete spegnere la luce da interruttore, non come ho fatto io adesso, spegnete da interruttore, qui sotto o sopra, dipende dal punto di vista, c'è un tasto, lo tenete per 30 secondi una volta che avete acceso la luce e automaticamente questo dispositivo si associerà alla vostra plafoniera. La plafoniera quando si associa con questo inizierà a lampeggiare. Che cosa potete fare con questo? Non è che semplicemente tacca, accendi, spegni e regola la luce, no, potete regolare anche gli RGB, anzi facciamo un tutorial completo. Come funziona? C'è anche un LED qui di stato che appena voi lo girate, fate, si accende e vi dice guarda ho mandato l'input. Funziona tramite Bluetooth, quindi abbiamo più o meno un range di 10-15 metri, se siamo senza ostacoli anche 20. È compatibile con quasi tutte le plafoniere della E-Lite, comunque nella descrizione del prodotto di Banggood trovate con quale plafoniere è compatibile. Io ho la YLXD50XYL e funziona anche se ha il colore e adesso vi spiego come si fa a controllare. Con su e giù, cioè girando la rotella, regolate la luminosità. Con un tocco andate a spegnere e con un altro tocco andate a riaccendere, se tenete premuto andate a cambiare l'RGB, ok? Mantenendo premuto lo sfondo dietro colorato continuerà a cambiare colore, quando mollerete rimarrà con quel colore fisso. Questa è una figata. Altra cosa, come faccio ad attivare la modalità notte? Molto semplice, fate doppio tocco veloce. La plafoniera si mette in modalità notte, infatti adesso sembra che è spenta, però è accesa. C'è una modalità luna che vi permette appunto di avere la luce accesa e potete quindi godervi questa notte. Una cosa che un po' mi è dispiaciuto di questo prodotto, devo ammetterlo, è il fatto che quando è in modalità notte non posso regolare l'RGB. Lo posso regolare l'RGB solamente quando è in modalità normale, ovvero così, ok? Quando è in modalità acceso, quindi che illumina, potete regolare, altrimenti in modalità notte non è possibile regolare lo sfondo. A dire la verità questa cosa si potrà sempre aggiungere tramite un aggiornamento firmware sicuramente, ma non è una cosa che proprio ho urgenza. Nel caso posso comunque regolarlo tramite app. Anche se questa cosa notato non potete farlo per esempio neanche con l'assistente vocale, quindi ci deve essere qualcosa lato firmware che hanno tralasciato. È un aggeggio che secondo me è da considerare, quindi se avete una plafoniera della e-Light acquistatelo assolutamente. Potete acquistarlo su Banggood, mi è arrivato in 15 giorni lavorativi, perché l'ho preso dalla Cina, se no vi arriva in una settimana se lo prendete dal magazzino europeo se dovesse essere appunto disponibile. Spero che questo tutorial, recensione vi sia piaciuta e alla fine è un semplice dreamer. Se è così lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi nei prossimi video. Ciao! Iscriviti al canale